E' finita in pareggio la gara di recupero di campionato tra Vibonese e Reggio Calabria in Serie D allo stadio Razza di Vibo Valencia, partita che a febbraio era stata sospesa e rinviata per il forte evento. Il recupero si è quindi svolto mercoledì 6 aprile in un bel pomeriggio di sole di primavera davanti a circa 2000 spettatori con ottima rappresentanza ospite. Il match sembra incanalarsi su binari rosso-blu nel primo tempo. Già al 14esimo infatti l'attaccante di casa Allegretti trafigge Licastro realizzando il vantaggio. Il Reggio è in difficoltà, rischia mano sbanda restando in partita e al 72esimo coglie i frutti con la rete del solito Maisano che fa felice Cozza. La squadra Maranto due minuti dopo resta in 10 per il rosso a corso, finisce comunque in pareggio. Questo derby restano inalterate le distanze tra le due rivali, entrambe prendono un punto alla versa. Vibonese sempre quarta, Reggio quinto. In casa rosso-blu polemico il tecnico Di Maria secondo cui la rete regina andava annullata. Accoglie il punto con uno sorriso, il presidente ospite praticò che ha visto una buona reazione dopo la rete subita ed ora si aspetta una vittoria interna domenica sull'Agropoli. Guardiamo con ottimismo al futuro dopo questo pareggio, ha affermato. Oggi era importante fare punti perché affrontavamo una squadra più esperta della nostra. Importante è stato a non perdere la testa dopo lo svantaggio. Il tecnico Cozza concorda e si tiene stretto il risultato anche se dice palesemente che la prestazione di qualche suo uomo è stata eccessivamente leziosa e poco concreta. Chi non suda la maglia nelle prossime uscite resterà seduto in panchina, attuonato il tecnico del Reggio.